L'estate in città 2014 del comune di Pordenone offre ogni giorno per due mesi diversi appuntamenti spaziando dal teatro alla musica, dal cinema allo sport, dall'arte ai laboratori per bambini, alle visite guidate venendo incontro ad interessi e gusti di un pubblico molto ampio e di tutte le età. Ieri sera è stata la volta del duo comico Ipapu che nell'arena verde del castello di Torre hanno dato il via allo spettacolo con i migliori sketch risalenti ai primi anni di attività. Che cosa ci aspetta in questo luglio all'estate in città a Torre, nell'arena verde del castello di Torre? Allora, nell'arena verde, sì, noi ogni sera facciamo uno spettacolo, sono sette spettacoli diversi. No, non ogni sera uno diverso, eh? No, ecco sì, questo è quello che ci chiedono. No, sono a pacchetti, ogni tre giorni cambiamo lo spettacolo e andiamo cronologicamente, proprio perché non ce la faremmo saltare di palinfrasca. Cronologicamente parlando? Ecco, dal primo, dagli esordi fino all'ultimo, che è quello dell'anno scorso, che è insomma Fratelli Unici. Quindi sono sette tappe che noi ripercorriamo, così, sperando, perché è questo l'inizio. Sperando nella resistenza vostra, soprattutto. Bene, allora continuiamo a stupirci tutte le sere nel parco del castello di Torre con i Papu, i loro spettacoli dagli esordi fino ai giorni nostri. Ma che bella voce, ma che bel aplomb! Ma io non fai la giornalista, l'intervistatora? Grazie. 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 Grazie.